Una parentesi, tu che conosci bene anche Paolo Maldini, ti ha sorpreso tutta questa settimana di tempesta? Non c'era troppa convinzione, soprattutto secondo me, sulle modalità dell'incarico a Maldini. Maldini è uno che non è mai entrato nel Milan di Berlusconi e Galliani perché avrebbe voluto carta bianca, che Galliani non voleva, non poteva concedere, essendo lui responsabile ed essendo un responsabile non solo amministrativo ma anche tecnico. Quindi Maldini per entrare ha voluto carta bianca. Primo anno ha portato lo scudetto, anche se hai delle perplessità sul suo modus operandi, considerando che si chiama Paolo Maldini. È stato un po' un azzardo secondo me questo allontanamento, è stato un po' un azzardo, non me l'ha aspettato. Ma alla società evidentemente, dopo aver visto ovviamente anche qualche errore che c'è stato in fase di campagna acquisti in questo secondo anno, si sono detti un momento, allora no, se anche Maldini può sbagliare, i soldi sono nostri, che è il ragionamento degli investitori americani, è sempre questo, allora ci pensiamo noi. C'è questa moda famosa degli algoritmi, dello studio scientifico sull'acquisto dei giocatori, che a me fa ridere molto, no?